Buongiorno signori, oggi vi portiamo a Biella, Biella Barazzetto. Il Barazzetto di Biella è un po' la Beverly Hills del nostro bel biellese. Siamo nella prima collina e vi portiamo a vedere un immobile d'epoca. Prima della presentazione però, soprattutto bisogna dire che il biellese è un territorio straordinario, anche oggi abbiamo fatto un atto con due famiglie di Milano che verranno a vivere il nostro bel territorio e come sempre ci fa piacere vedere che le persone che non conoscono il biellese poi arrivano a Biella, si innamorano e qui comprano casa. Comprare casa nel biellese è uno dei migliori investimenti che potete fare in questo momento di instabilità. Allora, la villa che è apparsa adesso è Villa Maria, una villa d'epoca, è proprio l'oggetto dell'atto di quest'oggi e quella che vedete è Villa Rolando. Sono ville d'epoca che abbiamo venduto recentemente, una l'atto appunto l'abbiamo fatto oggi, Villa Rolando l'abbiamo rogitata a settembre e stiamo ricercando nel territorio biellese delle ville d'epoca, per cui se sei proprietario di una villa d'epoca che è lì parcheggiata con le quattro frecce, chiamaci, facciamo una chiacchierata perché abbiamo molti clienti, soprattutto clientela selezionata e che arriva da fuori Biella, che apprezzano in maniera particolare il nostro patrimonio immobiliare. Lascia un like alla fine di questo video così sarai sempre avvisato di ogni nostra iniziativa. Un'altra cosa che ci fa molto piacere, ho scritto un libro, come comprare case e vivere di rendita, di lì è nato un corso e il nostro corso è diventato il numero uno in pochi mesi che l'abbiamo lanciato. Lo troverai sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube, il nostro sito è www.abitabiella. Ma andiamo a vedere oggi di cos'è che vi stiamo parlando. Prima di tutto ritorniamo sempre al fatto che biellese è territorio straordinario. Il Barazzetto, signori, allora, questa è un'immagine di Biella, un'immagine particolare, e la villa che vi proponiamo oggi è Villa Florio, che è stata costruita nel 1920 e che vendiamo, ve lo dico subito, per soli 290.000 euro. Ma andiamo a vedere, questa è la vista di cui godete da in casa. Non credete a nulla di quello che sentirete in questa presentazione? Alzate il telefono, venite a vedere che costa tutto il doppio di niente e vedrete se quanto vi dico corrisponde a verità oppure no. La villa in questione oggi è questa, è una villa che posa su 1.500 metri di parco, la posizione è incantevole e una casa che è immersa al sole ha una panoramicità che adesso vi farò vedere e la vendiamo per soli 290.000 euro. Al che qualcuno potrà dire sicuramente è una casa che va ricostruita completamente perché per venderla per soli 290.000 euro, poi la casa vedremo, ha la cucina, il salone, la sala da pranzo, 5 camere da letto, 3 bagni, è completamente cantinata, ha una soffitta che potrebbe essere un'altra unità abitativa, c'è tutto un deore esterno, qualcosa di molto particolare. Villa Florio nasce nel 1920, vedete la casa? Allora vi dico, la casa è completamente restaurata, al restauro totale mancherebbe la ritinteggiatura della facciata. Questa è la parte retrostante della villa dove abbiamo un bel deore esterno che vi permette in stagioni calde come ha fatto quest'anno di vivere in un'oasi di tranquillità, oltretutto anche a livello climatico, il barazzetto è la prima collina, abbiamo già tutto un altro clima rispetto alla città di Biella. Quella che è apparsa adesso è la parte del giardino, vedete come la posizione è dominante, come da in casa voi vedete completamente, praticamente vedete il mondo, ma da in casa potete vedere Biella. è stata riportata agli antichi splendori completamente. Andiamo a vedere la casa all'interno. Partiamo dal salone, tutti i serramenti sono stati sostituiti con dei serramenti nuovi con vetrate a camera basso emissivo, sono stati recuperati tutti gli antichi cattedrali emessi nei serramenti nuovi. Il salone, questa è la sala da pranzo, la casa ha tre impianti di riscaldamento di cui poi vi parlerò, tra cui questo caminetto a pellet che riscalda completamente tutta la casa, recuperati tutti i suoi pavimenti, le porte interne che sono le porte originali e al piano terreno abbiamo il salone, la sala da pranzo, abbiamo una cucina, abbiamo una dispensa e dei locali a deposito. Al primo piano della casa cominciano le camere da letto. Le camere da letto, vedete, sono, guardate questa camera, è praticamente un appartamento per conto suo. È una camera matrimoniale molto grande, abbiamo due camere matrimoniali grandi così, che sono veramente un mini appartamento per conto loro, altre tre camere da letto che sono matrimoniali, per un totale di cinque camere da letto. E qui vedete gli scatti, tra l'altro i pavimenti che vedete a terra, sono pavimenti nella Ricce d'America che sono stati lamati e riportati al nuovo, sono pavimenti che hanno uno spessore di due centimetri e mezzo, sono inchiodati sulle radici. Vedete anche gli interni, l'impianto elettrico, è stato rifatto completamente a nuovo il tutto. È una casa che, come ho detto prima, basterebbe ritinteggiargli la facciata con tutti i vari bonus che abbiamo e la casa è riportata agli antichi splendori. Proseguiamo, andiamo a vedere, qua abbiamo tra l'altro oltre le cinque camere da letto, abbiamo un bovindo sul bel vedere, che è una zona studio, computer, zona lettura, che è molto particolare. I bagni, come vedete, sono rifatti completamente a nuovo, la casa ha tre bagni, c'è la possibilità di un quarto bagno al piano terreno e la mansarda ha già tutti gli attacchi per un eventuale quinto bagno se volete utilizzare la mansarda come zona ospiti. Vedete che i bagni, gli impianti, l'impianto elettrico, tutto è stato rifatto. Allora, vediamo bene, la casa è composta di un ingresso, al salone, la sala da pranzo, la cucina, c'è una dispensa, ci sono quattro camere, c'è il bovindo, scusatemi, sono cinque le camere, il bovindo, ci sono tre bagni, la soffitta e le cantine. Villa Florio ha una storia questa villa, veramente una storia che è parte del biellese. Vedete, queste sono le soffitte che potrebbero essere utilizzate proprio come un'estensione o un'eventuale unità da adibire ad eventuali ospiti. Anche nelle soffitte, tutti gli impianti che sono nuovi arrivano al livello delle soffitte e anche in soffitta hanno cambiato tutti i serramenti. In più la casa è completamente cantinata, vedete che ha una struttura con le volte a vela in mattone, è dotata di un impianto di riscaldamento con una caldaia nuova a condensazione a metano, in più abbiamo il caminetto che avete visto prima, un bollitore che viene riscaldato sia dall'acqua della caldaia o altrimenti tramite il caminetto a pellet, in più ci sono camini ovunque e delle stufa a legna. La casa ha veramente tre impianti di riscaldamento. Nella foto che è apparsa adesso abbiamo un particolare delle vetrate cattedrali che sono le sue originali e che sono assieme agli scuri state riposizionate sui serramenti che sono stati sostituiti completamente. Andiamo ancora a vedere una particolarità, vedete da in casa la vista di cui potete godere in questa villa è questa, quella che vedete è la Serra Morenica, ha una vista alla casa che spazia 360 gradi, dalle pianure per arrivare alle nostre montagne. Le porte interne sono state mantenute, le sue originali, che sono porte in massello di legno, molto belle. Quello che è apparso adesso è l'ingresso della villa al trovano e il caminetto che vedete, che abbiamo già visto prima, è collegato all'impianto di riscaldamento. Inoltre si è computerizzato tutto l'apparato radiante, per cui ogni radiatore, tramite un computerino, dalla zona giorno o dal vostro iPhone, potete regolare la temperatura in ogni camera, nei bagni, nella zona giorno, in assoluta autonomia e da remoto. Le tre fonti di riscaldamento sono il gas, il pellet, oppure le stufe a legna. Gli spazi esterni sono molto importanti, guardate il giardino, tra l'altro il giardino è completamente in piano, nonostante siamo in prima collina. Abbiamo 1500 metri quadrati di giardino, che è riccamente piantumato, non c'è da spendere assolutamente nulla per la piantumazione esterna, se non le varie potature. Questo è il deore esterno, che è messo a nord della casa, per cui d'estate gode di un'ombra naturale. Guardate che bello, che è questo spazio, col suo ciottolato a terra. Eccola qua. E qui abbiamo la parte ritrostante alla casa. Siamo in categoria catastale A7, per cui un bene che rientra nella normativa della prima casa, esente IMO, tassa di registro al 2%. Se calcoliamo di mutuare questo bene su un mutuo che abbia una durata di 25 anni, ad un tasso indicizzato dell'1,50, i 290.000 euro, se volete sfruttare tutta questa leva che può arrivare al 90%, vuol dire che potete avere 260.000 euro di mutuo ed equivale il tutto a una rata mese di 1.040 euro con un apporto personale vostro di soli 30.000 euro. Con 30.000 euro, signori, avete comperato qualcosa di estremamente particolare e ricco di storia di questa casa che è appollaiata sul bel vedere di Biella. Per chi non ci conoscesse, tutto questo è il nostro staff, dall'avvocato al commercialista, da chi si occupa di mutu e l'assicuratore, dallo studio tecnico, e noi di Abita, che da oramai 37 anni ci occupiamo di immobili nel nostro territorio. Oltre alle persone che vedete qui abbiamo veramente selezionato una squadra di artigiani che vanno dal decoratore, al muratore, dall'idraulico, elettricista, falegname, fabbro, tutto quello che potrebbe occorrere per fare un intervento all'interno della casa. Se non conosci il bielese, fermati un attimo, non credere a nulla di quello che ti diciamo, tu vai a vedere che cos'è il santuario d'Europa, il ricetto di Candelo, il lago di Viverone, le nostre montagne con delle passeggiate indimenticabili, il comune di Rosazza che è stata definita la Rennes-le-Chateau italiana, il parco naturale della Bessa dove abbiamo anche una piramide, le vie ferrate dove anche se non siete degli abili alpinisti potete cimentarvi in giornate indimenticabili in quota e sempre nel bielese andate a vedere il parco naturale della Baraggia andate a vedere uno dei parchi più belli d'Italia che è la Burcina o l'Oasi Zegna i nostri santuari da Graglia a San Giovanni d'Andorno santuari bellissimi o la via ferrata dell'Infernone nel comune di Sordevolo. Queste sono solo alcune delle bellezze che abbiamo nel bielese ed è veramente straordinario il fatto che oggi abbiamo fatto un atto abbiamo venduto Villa Maria a queste due famiglie di Milano che avevano cercato un qualche cosa di più o meno analogo nelle zone di Como nelle zone dei laghi e un immobile come quello che hanno comperato nel bielese lì sarebbe costato ben oltre un milione e mezzo due milioni. Nel bielese riusciamo ad avere dei prezzi che saranno veramente la cassaforte per gli anni a venire e sicuramente l'investimento è blindato. Nel bielese abbiamo i prezzi più bassi d'Italia e siamo in uno dei luoghi più belli in assoluto di questa bellissima Italia. Per chi non ci conosce ci trova su questi canali come Abitabiella Agenzia Immobiliare come Silvio Azzupichiatti come Bielese Territorio Straordinario che è una nostra community o come studio associato Moving Real Estate è sempre noi. Sul nostro sito che è www.abitabiella.it potrete vedere anche tutti i video anche della casa che vi abbiamo presentato adesso di cui è la fine della presentazione metteremo il link e potete vedere la storia di questa casa e la potrete vedere all'interno. Questa signori è la nostra sede abbiamo un parcheggio interno cortile nostro per cui arrivate qui con la vostra macchina parcheggiate in assoluta tranquillità in un parcheggio privato nostro e poi ci pensiamo noi a portarvi a vedere qualche meraviglia del Bielese e siamo qui signori da 36 anni quest'anno sono 37 e da 47 anni io sono in questo settore che è fantastico che è il settore immobiliare. Abbiamo venduto case in Francia abbiamo venduto case in Liguria in Costa Azzurra adesso ci stiamo concentrando sul Bielese perché in un momento come questo dove è importantissimo investire il nostro denaro al meglio meglio degli immobili e meglio del Bielese sfido chiunque a trovare altre alternative il Bielese signori è un territorio straordinario nella foto che è apparsa adesso avete le nostre palestre che sono completamente gratuite e oggi vi abbiamo proposto Villa Florio che è una casa bellissima completamente indipendente che vendiamo per soli 290 mila euro e se volete sfruttare tutte le leve con un mutuo oggi vi bastano 30 mila euro e avete veramente staccato un biglietto per il futuro è un investimento che è straordinario lasciate un like sui nostri video in maniera che ogni volta che abbiamo un'opportunità siete tempestivamente avvisati per Bielese territorio straordinario signori non credete a nulla di quello che vi ho detto alzate il telefono venite a vedere sul posto se quanto vi diciamo corrisponde verità buona giornata a tutti a tutti